Anche quest'anno si sono dovuti fermare a 100, ma le domande sarebbero state molte di più. Sfiorano infatti, quota 130, gli studenti di città di Castello che hanno chiesto di fare volontariato durante le vacanze estive nell'ambito del progetto Conoscere per crescere a cura dell'amministrazione e della cooperativa La Rondine in collaborazione con l'ASL Umbria 1. Nei giorni scorsi nella sala del Consiglio Comunale Tifernate si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati per i giovani che hanno già fatto esperienza nel 2016. L'assessore Luciana Bassini. Molti parlano di giovani ma non parlano ai giovani e questo progetto invece è veramente dedicato tutto a loro. Ci lamentiamo spesso che nel nostro pianeta adesso le persone toccano più cellulari che volti. In questo progetto i giovani invece si possono avvicinare alle istituzioni, nei posti dove ci sono persone meno fortunate di noi e anche molti anziani. Veramente tutto questo credo che per la loro crescita sia importante e abbia poi anche un risvolto veramente futuro per la loro vita. Due settimane per conoscere la realtà dei servizi sociali, entrare in contatto con gli utenti e con realtà spesso ai margini della vita quotidiana. Come ha detto il presidente della cooperativa La Rondine, Luciano Veschi. Il bilancio è più che positivo, nel senso che siamo al quarto anno dell'edizione Conoscere per Crescere e abbiamo raggiunto lo strepitoso numero di oltre 400 partecipanti. Quindi questa è una cosa più che positiva. Oltretutto ci fa enormemente il piacere perché comunque vediamo che c'è un impegno, un interesse da parte delle scuole, dei direttori didattici, dei presidi e quant'altro. Proprio a contribuire comunque a spingere i ragazzi a partecipare a questa bellissima iniziativa. Daniela Felicioni, responsabile del distretto sanitario Alto Tevere dell'Aslo Umbria 1, ha parlato di un clima di entusiasmo generale intorno a questo progetto. Questa loro esperienza fatta nelle nostre strutture dove assistiamo anziani, dove assistiamo bambini, dove assistiamo disabili, e persone comunque con delle difficoltà è assolutamente importante per tre motivi fondamentali. Uno, perché fanno crescere in questi ragazzi la consapevolezza dell'importanza dell'integrarsi e supportare tutte le persone che hanno difficoltà. Secondo, quello di invogliare i nostri giovani anche a percorrere delle strade professionali per il loro futuro, né in questo che è l'impresa sociale, impresa sociale che noi conduciamo come servizi sanitari, servizi sociali e cooperative sociali. E il terzo è quello di mettere un occhio, un occhio terzo a quello che si sta facendo nei nostri servizi, in modo tale da crescere anche noi in base alle loro considerazioni e alle loro osservazioni.